Il trofeo, il peso, il peso. Destra 5 piena. Stai sinistra. Posso stare a sfiorare? Destra un'oponda pulito. Subito in posta, pulito, sfiora, si ritra un momento. La Sifano? Sì. Settanta. Sinistra 4 più veloce, per destra 6, 50. Sinistra 6 esce sudosso, per destra 5 più più, 300. Però mi ho perso i 25 nell'errore sulla sesta prova, ho una ventina oggi, ne ho ancora 25 di vantaggio, direi che il potenziale della macchina c'è. Io sono comunque molto concentrato, abbiamo migliorato il discorso dell'assetto, che oggi non riuscivo a trovarmi sulle prime prove, quindi sono fiducioso. Destra piena, sinistra 4, con da meno stretto, 80. Stacca, spio. Via! Tracate! Tracate! Uprodobbo! Poi ussioni! motionè! Grazie a tutti.